musica 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 no ti devi prendere quella 4060 si vabbè ma tanto costerà quando comprare adesso quella 3060 che nel che perchè perchè ci sarà il prossimo anno ci sarà di nuovo la crisi delle memorie cioè oddio perchè sto video raga? non avevo mai visto il video no sempre la crisi delle memorie che vuol dire? è la crisi delle memorie ram interne delle memorie video perchè? e perchè hanno scoperto che le 3060 le 3070 la serie 3000 diciamo che considera che hanno anche 24 giga di ram l'asus e comunque la samsung molti di loro hanno già investito in nuovi stabilimenti per produrle ste memorie no? il prossimo anno vedrai che con la scuola di questo i prezzi saranno il triplo quindi eeeh io ti consiglio caldamente sei in menzione di prenderla di prenderla adesso una scheda video se riesci quest'anno perchè ancora questo problema non c'è non c'è non c'è non c'è capito eeeh quindi devo aspettare l'anno prossimo no no se tu vuoi la 3060 va la prenderla adesso se riesci se no l'anno prossimo dobbia che mi prendo la 4000 si perchè tanto con gli stessi soldi prendi la 4000 perchè ci sarà sicuramente la crisi delle memorie nuovamente quest'anno il prossimo anno no no allora ci sta mi prendo la 4000 l'anno prossimo cioè intanto quest'anno col cazzo che mi permettono di comprarla ho fatto quest'anno il pc e cosa ho salito? e tu hai detto che hai una? una 1670 super ah vabbè ma non ti da problemi i giochi in VHD c'è tiga no no mi va bene però cioè io vorrei un po' di più cioè ok come la l'uomo vuole sempre di più cioè non basta mai è la natura umana un consiglio che ti posso dare io se giochi in VHD non ti farei problemi c'è anche un amico che gioca a cyberpunk con una RTX 480 quindi ma ottimo mia nonna ha detto tanno se vuoi a te tuo fratello ti faccio il televisore io non so bello da da 5 io mi sono messo a quel punto ho pensato ma se invece del televisore mi facesti fare monitor curvo quello della Samsung 39 quanto sarebbe bello ma guai ti piace l'Odyssey? eh? l'Odyssey parli? il G9? si il G9 anche il G7 andrebbe bene eh? io amo il G9 fidati eh una pazzia la faccio però io gioco in 4k quindi tornare in 2k ci piace in poche parole ci piacciono i punti G eh mi dissocio mi dissocio mi dissocio mi dissocio sono contento poi che mi è arrivato pure il coso per montare lo schermo al muro ah l'attacco peso a certo monitor la si l'attacco no l'attacco quello speciale per i monitor dei monitor dell'HP27F ah ho capito quindi non è ripeto è proprio un monitor del cazzo il mio infatti cioè è bello da vedere perché fino e per carità però non mettergli mettigli li 4 buchetti dietro che cazzo ti costa eh sono gli accordi che fanno prima prima di venderlo cioè eh l'attacco peso è un attacco universale che tu per installarlo nel chi lo sta prendendo il biglietto ma io provo ragazzi a pensare un'arma qui scusa ma non c'è prima no cioè non è detto che se ci sta il bichino cioè poi l'attacco a qualsiasi punto che gli pare eh non è detto che prima devono attaccare a raga la cannonade questi non muoiono attacco l'abbiamo preso l'abbiamo preso ho ammazzato direttamente il loro il loro leader anche se ne riesce tanto c'è morto questo no scherzi io l'ho statuto magari dove ho vado a ma perché non salta il mio festino ammazzò tipo te lo sai ma tutti io non corri io ho cercato di dare al massimo ma sono morto anch'io ho provato ma per aumentare la velocità del computer dovrei cambiare hard disk dovrei prendere un ssd per per aumentare la velocità del pc invece dell'art disk che devo prendere la ssd vero ancora tu hai uno meccanico si occa di di però mi hanno consigliato se voglio velocizzarlo di prendere l'ssd se vuoi velocizzarlo in termini di caricamento eh l'ssd o comunque un enviume è meglio un enviume è un ssd che ha un attacco diverso da un ssd con l'attacco usata lo colleghi direttamente a una porta che si chiama porta enviume e quindi all'interno del pc sulla scheda madre capito a me mi si è bloccato il gioco ragazzi niente per me sono stato un ragazzo ssd comunque la live sta condurando mi sa che c'è stato un piccolo buco ssd vediamo se stanno prendendo B eh purtroppo ha 3 minuti hanno preso dietro pure A raga avevo lasciato il cannone lo state prendendo raga stanno prendendo A ma che stiamo spursando eh lo so eh usano loro più stanno aspetta di darvi una mano ragazzi ssd 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 mi si è impannato il gioco che praticamente non lo so, c'è stata una disconnessione e quindi si è staccata live e tutto cose che capitano ragazzi ai vivi grazie stiamo perdendo l'accampamento principale ragazzo si ragazze sono tre conto di me però ma loro il gioco appena scendo appena scendo il signore che ci sono i miei ma hanno andato nessun combattimento di attacco non sono io non sanno che fare che non scappano che mi stanno cercando sono morta ragazzi di un sistema liquido da 50 euro su amazon scusate che non ti conviene no no infatti non lo so che non mi conviene 50 euro infatti era solo un videoprova cioè 50 euro è poco no no vabbè no dopo che spendi 2000 euro per un computer ragazzi poi per 50 euro ti vai prendere una cazzata che se rompe male ti sei fritto tutto quanto verrà costare un sistema di rappresentamento 200 o 300 euro per la 50 euro no 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 di meno di meno? si si parlo del sistema eh se puoi parli insieme alla IOI no 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 se c'è se compro il sistema non compro la IOI te lo tieni quello lì mi tengo sul sistema cioè la IOI non me lo compro alla fine raffreddo tutto si no? cioè al massimo se ci voglio appelline qualcosa mi compro qualche ventolina che c'è la cazzo che non serve a nulla si esattamente ragazzi stanno a massacrare il sappli c'è il sappli e il camp si o me è andato ce n'è solo uno corello mi sta a fa pena lui si vabbè ma raga ma sono 3000 la ma quando dà noi ci hanno fatto e non siamo neanche squilibrati ragazzi eh noi abbiamo più troppe ormai praticamente ce l'hanno fatto non escono a saltare maledizione io sto cercando di non fare il mistero però no vabbè ormai ce l'hanno fatto 20178 c'è qualcuno che non sta che sto bloccando tutto io sto bloccando raiar era era piazzato lì c'è più ma do io b più ora io non riesco a capire perché faccio b più cioè vaffanculo cioè sono un gioco vaffanculo cioè fatto sei assist una kill pure cioè mi prendi per il culo io ho fatto due assist però ne ha ammazzati 51 ahahahahah boh non lo so raga considera che c'è gente che ne ha ammazzati 100 e ha fatto b più pure quindi boh non lo so che che criterio usano per darti sti gradi secondo me da quello che ho capito dipende anche da quanto danno prendi e da quanto danno fai cioè qualcuno proprio pure le perdate sì anche quello che ricevi forse forse c'è io per il inizio ho avuto 3,5 milioni di danni e devi andare samasa sì ora vengo in live però guardarti ok grazie io infatti è questo no no che vuole combattermi chi è che vuole combattermi mi prendo un po' di challengers ah ecco qui cosa volevo battle pass tutto lo compri il battle pass no no diciamo che ho sbloccato il livello 24 della nobiltà e l'ho riscattato gratis ma diciamo che sono le cazzate che danno loro la traduzione italiana di bannerlord sta andando avanti o da quello che ho capito ancora ferma è ancora ferma sì perché al momento non so se ci stanno lavorando più oh no pure il aggiornamento di quale gioco c'è l'aggiornamento? no no di windows ah ok ho sbloccato le emot per sedermi a terra ma che so carino mi so inginocchiato log mission ah che esco eh? ah sto scendo Samasa ok Samasa ciao ciao ci vediamo in live ci vediamo in live esco oggi aspetta un macello si vede niente e devo arrabbiare che se arrabbiare che fa sta cosa? vuoi aggiornare un arrabbiare stanotte? c'è un'ora ma quale aggiornamento hai da fare? windows proprio si si ma qual è? è grosso di minzione vabbè ti vedo sul cellulare dai va bene va bene va bene va bene va bene comunque ho un rateo di 1.5 io cioè non è un granché però almeno una kill a partita una kill e mezzo due la faccio si vabbè ma ma considera comunque sia uno spadaccino hai più contatto con le truppe e supporto la mia skill hai avviato il countdown eh? lo sto avviando l'altro ieri c'era la battaglia vedevo che c'era la possibilità di fare le battaglie come si è? territory wars oggi c'era war si però era una battaglia di prova non era una vera e propria guerra giorno 15 la prossima nel senso che i territori che conquistavi alla fine non ti restavano era solo una tipo una specie di beta per testare se cresciava alla fine non è il